Partiamo dall'ariete. Sebbene l'umore non sia al massimo, sarete sicuri del fatto vostro e risponderete colpo su colpo a chi tenta di generare dubbi nelle vostre certezze. Toro, non certo esaltante, ma tutto sommato abbastanza serena questa giornata che vi vedrà impegnati a smaltire una serie di incombenze burocratiche o fiscali. Pazientando di fronte alle inevitabili code agli sportelli potreste fare un incontro interessante. Gemelli, si profila una giornata impegnativa ma davvero appagante nei risultati. Potreste scoprire i lati positivi della routine di coppia che in momenti come questo dà un senso di ordine e sicurezza. Cancro, non è la giornata per mettere in campo progetti ambiziosi. Limitatevi ai compiti di routine. Il vostro intuito oggi non ve la conta giusta. Con l'umore sotto i piedi vi chiuderete in voi stessi come ricci. Leone, le stelle vi offrono l'occasione per farvi perdonare qualche peccatuccio. Con il partner, tenerezza e diffusioni. Voglia di nuovi acquisti, creatività e recupero di un rapporto di amicizia che attraversava un momento di crisi. Vergine, accettate serenamente un confronto di opinioni. Non irrigiditevi sulle vostre idee anche se vi sembrano più lungimiranti di quelle altrui. Bilancia, gli astri vi regalano grinta e fiuto per le occasioni che potrete sfruttare al meglio in una questione di lavoro, con la sicurezza di essere nel giusto. È la giornata giusta anche per togliervi qualche sfizio. Scorpione, l'amore riserva sorprese gradite e potrà davvero cambiarvi meglio la vita se saprete abbandonare i sospetti e gli atteggiamenti prevaricatori. Non opponete resistenza al vento di rinnovamento che investe anche il settore lavorativo. Sagittario, le stelle riequilibrano le emozioni e vi offrono la possibilità di riscattarvi. In compagnia degli amici ritrovate voi stessi. Una questione legale ingarbugliata o la contestazione di una multa si risolve a vostro favore. Capricorno, un po' di nervosismo è prevedibile con la disarmonia delle stelle. Non perdete resistenza e non smarritevi a pochi metri dal traguardo. Acquario, a dispetto di chi vi vuole inguaribili idealisti, dimostrerete che al bisogno avete un eccellente senso pratico e un buon fiuto per gli affari. Sorridenti e concilianti con il partner, oggi siete uno zuccherino. Pesci, non potete vivere di rendita né ottenere il massimo impegnandovi al minimo. I risultati sono accettabili ma che spreco di possibilità. Una pausa di riflessione potrebbe produrre dei buoni frutti a livello di intuizioni.